Lo hanno atteso all'uscita dal lavoro, sorprendendolo con ben 70 grammi di oro in bocca. Sono così scattate le manette per un dipendente infedele che da tempo rubava scarti di lavorazione semilavorati nella ditta orafa di Salleo dove lavorava, utilizzando sempre lo stesso metodo, ossia nascondere i preziosi sotto la lingua. Il cinquantenne Aretino è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Arezzo. Le indagini erano partite a seguito della segnalazione dei titolari della ditta che avevano notato a manchi spiegabili che stavano però mettendo in difficoltà l'azienda. I sospetti si erano così concentrati sul cinquantenne nell'organico da qualche anno. Ieri è scattato il blitz dei carabinieri intervenuti in borghese che hanno colto in flagranza di reato l'uomo con 70 grammi di oro nascosto in bocca. Gli inquirenti hanno poi eseguito una perquisizione domiciliare. Nell'abitazione del cinquantenne è stato trovato quasi un chilo di oro. I militari hanno poi rinvenuto anche un block notice nel quale il dipendente segnava le quantità di metallo prezioso che riusciva a portare via. Sequestrate infine 10.000 euro, secondo gli investigatori, provento dell'attività illecita. Per l'uomo sono scattate le manette e è stato sottoposto a processo per direttissima.